L'Atletico 2000 continua la sua striscia positiva nella diciassettesima giornata del campionato all'Evilite, vincendo di misura contro l'Alba Longa. I padroni di casa scendono in campo con Tocci in porta, Tortora, Gentile, Rizzo e Marzocca in difesa, Erichiello e Gabrielli in mediana, Splendori, Chiacchierini e Buccolini alle spalle di Maratea. Risponde l'Alba Longa con Boria in porta, Corsi, Benvenuto, Petrosino e Oddi in difesa, Spinetti, Magliocca e Lombardi a centrocampo, Cascioli alle spalle di Sardiglia e Barcanna. A partire meglio è l'Atletico che all'ottavo sfiora il vantaggio con Gabrielli. Su azione da fallo laterale la sfera giunge al numero 8 che da pochi passi calcia di collo alzando troppo la traiettoria. Poco male perché il gol arriva al sedicesimo, la punizione di Gabrielli viene prolungata da Erichiello sulla testa di Rizzo, la cui frustata, bacia il palo e si insacca. La reazione dell'Alba Longa non si fa attendere, Barcanna scodella in aria per il taglio di Magliocca che viene anticipato dalla provvidenziale chiusura di Marzocca. Dall'altra parte Maratea libera di tacco Chiacchierini che serve in aria Buccolini, la cui girata, ben indirizzata, viene murata in angolo. Allo scadere della prima frazione invece Maratea sfiora l'Euro-goal, il suo tiro direttamente da corner si stampa prima sulla traversa e poi sulla base del palo. Nella ripresa, dopo il debole tentativo di Buccolini neutralizzato senza difficoltà da Boria, l'Alba Longa va vicino al pari con Lombardi, la cui punizione fa tremare la traversa a tocci battuto. Al diciassettesimo Persi è entrato da poco nelle fila dell'Atletico, prova ad incidere subito sulla gara ma la sua zuccata termina a lato. Poco dopo è la volta di Enrichiello, la cui parabola spiove e tocca la parte alta della traversa. Nel finale i padroni di casa calano di ritmo e spesso tendono a perdere le distanze mentre l'Alba Longa continua a premere. L'occasione più grande per gli ospiti giunge al trentaduesimo, Fabri in aria per Sardilli che salta un avversario ma davanti a tocci si lascia ipnotizzare. Anche l'Atletico ha l'occasione per il 2-0 quando Enrichiello imbuca per Persia che di punta non riesce a bucare Boria. L'ultimo brivido per l'Atletico arriva in pieno recupero quando Fortini in aria di rigore non riesce a centrare lo specchio della porta. Non cambia il parziale, finisce 1-0 per l'Atletico, ennesima vittoria di carattere e solidità.